Vi ho detto, io da quel momento, dal boss pesce, faccio fatica a ricordarmi le cose Ehi, ma sai che c'è ancora te? Grazie Questo qua si è girato e ti mangia Giustamente Se uno ha fame, puoi stare nel deserto Ecco, io pensavo di usare questo raggio Come c'è che si chiama? Raggio gancio, vabbè dai quello Avete capito, no? Quando vi do il segnale potete sganciarvi Qua vuoi che non ci sia una qualche battaglia? Non c'è una battaglia? Zona libera così? Va bene Mi preoccupa un po' tutta sta cosa, però Se lo dite voi Queste cose possono morire facilmente Permesso, grazie Dobbiamo andare avanti noi Forse quei rovi di fuoco non ci fanno niente Però qua mi sa che c'è Un insetto da qualche parte No? No, però bisogna fare altro Bisogna fare altro Controlliamo in giro se c'è Ma tipo la porta qua all'inizio Per esempio Qua sopra? Ma dove stiamo andando? Noi stiamo tornando per casa indietro? A parte uccidere quegli alveari schifosi C'è qualcosa da prendere qua Qua sopra Ma come? Come si fa a prendere? C'è da buttare giù? No Eh vabbè Quello rimane lì Qua uguale Qua ce n'è uno Così muoiono Ma sto posto non l'avevano già fatto prima? Cioè io mi ricordo sto posto di averlo fatto In una qualche era E che cacchio Silenzio Mi ammazzo tutto Oh va bene Un po' di ricarica Non mi ricordo cosa dobbiamo fare Non mi ricordo come dobbiamo fare Mi ricordo solo che c'è un boss In una certa area Oddio ma qua non ci siamo già stati? Noi qua ci siamo già stati E infatti mi ricordavo bene allora Mi ricordavo molto bene Questa qua ragazzi È l'inizio del settore della pirosfera Infatti qua c'è quello che ti spara La roccia Va bene eh Cioè per carità Ma Samus anche te Cacchio Arrivaci Non è che può saltire un po' più alto Un po' più lungo Eccolo qua Il nostro Aggancio Che cercavamo Prima Che non mi ricordo adesso dove ci portano Dove mi portano? Da che stiamo andando noi con questi ganci? Da che parte dobbiamo andare noi con questi ganci? Ci stiamo portando a qualche parte tanto no? Ah un altro ingresso Io mi ricordo una battaglia boss Nella lava eh Sei vicino alla lava almeno Ciao amici No 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 non compro niente No ho detto Venditori ambulanti Che schifo Tratevi un lavoro Mi ricordo una battaglia boss In una zona lavosa Una battaglia boss importante Che è quello che c'entra con tutto Tutta la storia Vabbè In un certo senso Ok no no Dovevamo venire proprio qua Oddio Aspetta no 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 non ci credo No no Non è quello che dico io Ah 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 Ok Eh Vi ricordate Il nemico che ci aveva salito? Quello lì con la cresta Con la cresta dai Il Tutto l'involucro Ecco Cioè l'involucro Tutta la La criniera bianca Che abbiamo sconfitto praticamente Ecco Eh Era lui Era Se così posso Posso buttarli giù? Sì No almeno posso congelarli Ok Ecco Eh Sì abbiamo scoperto che praticamente Eh Dato che da Da Dal pulcino bianco Alla fine era uscito quel robo Perché era Era lui Oh Che caglia Dai non c'ho voglia di Di reattivarlo ogni volta Vi ricordate appunto Che avevano detto Che il pulcino bianco In realtà era una specie Di involucro Uguale Eh Praticamente È come uno stadio evolutivo Tutto questo Uh Un'altra capsula Ok Ne abbiamo sei Un'altra serbatoio energia No Ma cacchio Ma è così? È già qua? È già qua? Ah di Ah di Ragazzi È ora di incontrare L'ultimo L'ultimo stadio Del mostro Porca vacca Questo è Anthony Eh Dove è l'uscita? Da qualche parte Allora comunque Ragazzi Questa è una battaglia Questo è Anthony Non è l'uscita Là c'è l'uscita Credo Là c'è l'uscita Sì Eh Eh Era l'uscita Una volta Guardalo dietro Guardalo Oh mio dio Vai Oh Ci sta Ci sta Dobbiamo trovarlo Prima Dov'è 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 C'è un qualcosa Quindi per far uscire Il magma Dov'è Eccola Eccola lì Oh Supermissile Oh grazie Ci autorizzi qualcosa di nuovo almeno Che è quello che ci serve alla fine Incrementi danni Impieghi 5 missili per colpo però Ok Si bisogna tenere premuto A Per usarlo Praticamente è come Il colpo Caricato Solo che È un missile più potente È un missile più potente Che ne consuma 5 però Ecco Forse adesso potrebbero iniziare a servire un po' Perché usando Già 4 supermissili Non possiamo farlo Perché noi abbiamo 19 Quindi niente Con 3 abbiamo finito Eccolo Eeeh si Poi con sta qualità Mamma mia Sempre visto in 2D O almeno sempre visto su Super Smash Bros Su Brull C'era anche Esattamente Ridley Ridley ragazzi è Vi ricordate quel pulcino bianco? Era Ridley Ridley Il primo stadio di Ridley Praticamente Si evolve Passa quello con La criniera bianca Tutta quella roba lì E poi diventa sto coso qua Uh Uh È successo qualcosa nella cabina di Adam? Porca vacca Guarda lì E via Girettino tattico sul muro Tanto Ormai Quando incontriamo Ridley Li prende E ci spate contro il muro Che detta Questa è bruttissima però Infatti mi ricordavo io la battaglia Sulla lava Ed era proprio questa In realtà me ne ricordo anche altre di battaglia Però non mi ricordo Proprio quando Man Sentilo Sentilo come istica Grandissimo Oh no però Eh lui purtroppo c'è anche La coda Mo' di lancia È tempo Di far fuori il nostro arci nemico Raggio plasma Incrementa i danni Come effetto secondario Può trapassare i nemici Quindi in teoria Adesso noi possiamo fare danni Eh Diretti Cioè nel senso Eh Colpendo un nemico Passa Magari se sono in fila Passa il nemico dietro Va bene Battaglia contro ridili Ecco ci schiaccia il muro Se ci prende quindi Meglio Meglio se evitiamo i suoi colpi Ecco Ok Fai i suoi colpi lancia Poi teoricamente dovrebbe fare Una specie di ondata Di calore anche A parte la palla infuocata Uh Perché io mi ricordo che faceva tipo Una specie di Di onda di calore Possibile sapere Che vita c'ha Oh grazie Perché prima bisogna Identificarlo ovviamente Guarda come tira i cazzotti Ma cos'è un box Oh È satanato sto coso Non ce la faccio a ricaricare Ma va là Non puoi Non puoi Non puoi ricaricarti Durante queste battaglie Un conto è se magari Sei in una battaglia Contro un cosa normale Ok Ma contro un boss Come fai Che Soprattutto contro di lui Che ti Ma Ma Che c'ha la rabbia dentro Adesso capisco Arci nemico E tutte robe del genere Perché dovete sapere Che Ridley Praticamente È un po' L'arci nemico Di Samus Non appare in tutti i giochi Se non sbaglio Dovrebbe apparire Solo in Super Metroid In Metroid Per Allora aspettate Super Metroid Oh guarda 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 Eccola qua Quella che dicevo io prima Dovrebbe apparire in Super Metroid Metroid Il primo Metroid Proprio Dove teoricamente Adesso no Adesso non mi ricordo Se era No mi pare in Metroid Sì Dove lui era addirittura Capo dei pirati spaziali Cioè lui in teoria Dovrebbe parlare Tra l'altro è lo stesso Che ha ucciso i genitori Di Samus O almeno sua mamma L'ha mangiata Mentre suo babbo Teoricamente si è sacrificato Però a dirla tutta Diciamo che non è Propriamente Il vero Ridley Perché il vero Ridley Teoricamente è morto Cioè è stato sconfitto Un bel po' di volte Adesso non so Sinceramente non so neanche Qual è Quando è che finisce Di essere il vero Ridley Perché Si parla di un vero Ridley Per diversi episodi Addirittura ci sono Diverse forme Tipo Meta Ridley E robe del genere In cui Ridley Viene tipo Clonato Da lui stesso Anche In cui Ridley Praticamente Viene Armato Praticamente Di un'armatura Di metallo Meta Ridley appunto Non so minimamente Quando smette Di essere Ridley Vero Ma inizia a diventare Un clone O un robot O robe così Comunque appare anche In Metroid Prime Diversi giochi Si ma io avevo 99 di vita Com'è possibile Che con una codata Sono arrivato Guarda guarda Cioè mi toglie 75 Bisogna stare attentissimi Con sto lobo No qua Qua mi ammazza Qua mi ammazza Qua mi ammazza Wow Oh oh No 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 Ma ho tirato Un cazzotto K.O. Tattico Per Samus Guarda guarda che adesso Io lo faccio fuori A sto schifoso Al maledetto È stato più facile Del previsto Perché prima Ci ho messo un sacco Che non mi ricordavo Ci ho detto Ma aspetta Ma ci sarà un modo Per togliere Quei super missile Infatti C'è solo un problema Anthony Che battagliona Qua vabbè Lui poveraccio Riesce sempre A schivare Riesce sempre Ad andarsene Anche da mezzo Debolito Sì purtroppo Adesso avete presente La scena All'incontro Di lei da bambina Davanti a lui In teoria Lì ci sarebbe stato Un mezzo dialogo Anche Tra di loro Credo Credo fosse No non è quello Quello è dopo Però appunto In teoria Li ha uccisi I genitori Davanti O almeno Il padre si è fatto esplodere Ha fatto un sacco Di danni A tutto quanto E Ridley Per riparare Diciamo Le sue cellule Le sue La sua vita Per risanarsi Del danno Ha ucciso la madre E se l'ha mangiata Poi si parla Poi si parla anche Di una specie Di appunto Dialogo Tra Ridley E Samus In cui Ridley Spiega Tutta la scena Di come si mangia La madre E robe così Ora Dove è andato Ridley Da qualche parte È andato Però se non ricordo male Adesso non vorrei dire niente Ma In teoria In teoria Ridley dovrebbe essere sparito Cioè Non credo Che lo rivedremo Però io sono tornato Indietro Ah no È giusto così È giusto così Ma allora devo andare di là È questo che mi stai dicendo Che questa era la zona giusta No questa non è la zona giusta A meno che Io qua col super missile Non posso buttare giù Direttamente alla porta Permesso Ok comunque Ehm Si sarebbero dei problemi Perché Che fine ha fatto Adam Adam caro Non Adam Kadmon Adam caro Ok 20 super 20 20 missili Vuol dire Che abbiamo la possibilità Di usare Quattro super missili Quel coso No Quel coso deve Morire male Oddio Io finisco nella lava Per colpa di un insettino Schifoso Guarda che non riesce Non riesce a fare avanti e indietro Per un muro Samus Allora ho questi qua Non me ne frega niente Spara lì Spara lì Quel cacchio Che vuoi I missili Non me ne frega niente Basta che li fai fuori Ma scusa eh Io qua non passo Se qua non passo È un problema Ah E invece E invece Qualcosina altro Qualcosina altro C'è Molto bene Ovviamente Non troppo E mi raccomando Sia mai che poi riesco a passare In piedi No Assolutamente Non c'è andato Nessun obiettivo No Sul cosa Fare Magari Guarda come Muoiono con un colpo Si schifosi Poverino Non fate più i gradassi Adesso Eh A sparare Le vostre fiammette Eh Piccoli Che fine Ha fatto la vostra sicurezza Dove dobbiamo andare No Aspetta adesso Non ci hanno dato Un punto d'incontro Un qualcosa Niente Quindi io Scusa eh Se diciamo così Io dovrei andare Al settore Quello Aspetta Noi siamo al settore principale Adesso Perché dovrei andare Al tre Ah Va bene Cioè In teoria Credo che Sia l'unica scelta O di qua O dall'altra parte Ok Infatti Già È successo qualcosa A meno che Cosa vuol dire Come fai a sapere Che c'è Come fai a mandare In squadra Una mission A mandare in missione Una squadra E sai già Che c'è Uno che ti ammazza La gente dentro Sei matto Ecco Chiaramente Quello che è successo Lì è successo Qualcosa C'era un proiettile È stato interrotto Il collegamento Con Adam E lui chi è Si fermi un attimo Identificati Dove vai Al settore Uno Ma Vabbè Noi stiamo usando Lo stesso ascensore Del tizio Praticamente Oh È andato È tornato subito Non so come sia possibile Che descensore è Ultra rapido Dove sei andato Da che parte Sei andato Che qua c'è gente Che ti deve interrogare E non sono la prof È un salvataggio Ah Ok E Non lo so Andiamo avanti Tanto ormai siamo in ballo Balliamo Bene Ormai Bisogna scoprire chi è Ma intanto Sto posto Non è il primo Che avevamo visto In teoria Si 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 questo qua Era il posto Iniziale Ti faccio un arcaio Te non sai Te non hai ancora capito Con che hai a che fare Te non sai Te non sai Con che hai a che fare Dov'è Ah Ho detto Oddio Cosa è successo L'ho vaporizzato Che in realtà L'ho vaporizzato Si quello lì Comunque era il posto Dove c'erano i due I primi due camaleunti Non so Ve li ricordate In teoria Ok si E allora aspetta E allora aspetta Porca vacca Qua noi stiamo andando Verso un posto A me Molto conosciuto Da me A me Per me A un posto Che poi aspetta Adesso che Ci guardo bene Non è che io Devo andare da questa parte È entrato di qua lui Forse è entrato di qua Non mi ricordo Dove cacchio stava Sto boss Aspetta lì sopra C'era un boss Pianta Questo ve lo posso Già dire Te grappi grazie Vabbè forse questo qua Semplicemente per tornare su Meno che Scusa qua ce n'è un altro Mi pare di aver visto qualcosa lì sopra Vabbè Ok è andato qua Va bene Lì c'è un altro Salvataggio Per cui Penso che Forse Chiudiamo qua Perché adesso Davvero Non Non ricordo Se Se il boss C'è adesso Quel boss Che mi ricordo io Che me lo ricordo Però direi che Ci abbiamo andato dentro Per questa parte Abbiamo già battuto Due boss E soprattutto Abbiamo battuto Ridley Che è la cosa principale Io aspettavo solo quel momento Per cui Ragazzi Terminiamo con l'episodio Ci vediamo prossima parte Sempre su Metroid O The Ram Qua dall'Anul Fedutto Ciao a tutti